Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Canicattì hanno acciuffato in flagranza di reato tre autori di furto in abitazione. In particolare la notte scorsa, approfittando del buio, i tre malviventi, un italiano e due romeni, sono riusciti a penetrare nell'abitazione in fase di ristrutturazione di un trentenne del luogo. Ma i rumori provocati dai tre topi d'appartamento per asportare l'area furtiva hanno fatto svegliare dal sonno i vicini che hanno allertato telefonicamente il 112. Immediatamente due pattuglie dei carabinieri si sono recate presso l'abitazione, sorprendendo in flagranza i tre malfattori, mentre stavano caricando sopra un mezzo il loro uso un significativo quantitativo di ringhiere inferriate ed altri materiali necessari per i lavori di ristrutturazione della casa. In quel punto i tre individui, un italiano canicattinese sessantenne e due romeni ventenni, vistisi accerchiati dalle due pattuglie dei carabinieri, non hanno opposto alcuna resistenza facendosi ammanettare dai militari dell'arma con l'accusa di furta in abitazione, venendo ristrette agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'area furtiva, del valore di alcune migliaia di euro, è stata interamente recuperata e restituita a legittimo proprietario. Sempre nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di canicattia e della stazione di Santa Elisabetta, al termine di una mirata verifica eseguita assieme ai tecnici dell'Enel, hanno fatto accesso all'interno dell'abitazione di una casalinga 53enne residente a Santa Elisabetta, accertando che la donna aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sono così scattate le manette per la donna con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. L'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per lei. L'attività svolta rientra nel quadro di una intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento al fine di garantire la sicurezza pubblica.